ok funziona salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di lega style voi chiediamo scusa per tutta questa assenza siamo stati un anno senza fare un video su youtube ovviamente vi chiediamo perdono e un anno nuovo abbiamo un sacco di idee per video nuove ovviamente non vedete qua anche perchè oggi non è presente quindi ovviamente non possiamo iniziare i video facendo siamo ritornati cose così cose cosa cioè non posso fare serio quindi ho deciso di fare un prank a mio fratellino si quello lì il matematico quello che avete visto uno più uno che faceva quattro insomma lui allora ovviamente ah 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 eccolo ovviamente di prendere questa stufa e questa bacinella metterlo qua alzarlo al muro chiamare mio fratello farmi rostenere poi voglio vedere la sua reazione siete carichi per il video lo so che siete carichi lo so lo so che sei carico non pari fitte che non sei carico esatto fai il bravo se no entri lì sul telefono ti faccio vedere io che carico sei carico? bravissimo aspetta ovviamente le cose importanti scriviti metti like metti mi piace commenta ecco non so più parlare ho mangiato troppo scriviti lascia un commento e metti mi piace ovviamente sui commenti scriviti i video che volete vedere basta con le chiacchiere facciamo colazione sono basso quindi utilizzo qualcosa per aiutare quindi teni 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 veni 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 sono preso per te teniamolo un attimo tenilo non farlo cadere guarda che c'è dell'acqua dentro ok ciao è stato benissimo si e ora cosa fai bravo bravo tenilo lì non si vede perché c'è la luce aiuta aiuta guarda che se lo fai cadere c'è l'acqua posso farlo cadere? se vuoi versarti l'acqua addosso cosa fai? guarda che è molto fredda l'acqua in realtà non c'è nessun'acqua non ti è piaciuta la sorpresa? eh no 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 calmati calmati figliolo non fare queste cose questo è un regalo è il nostro primo video dell'anno e oggi non c'è Astro ci sei te vabbè ormai tu sei andato allora ragazzi spero che il video vi è piaciuto mettete like e commenti ci vediamo alla prossima ok 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 ok